22 concerti in 14 punti della città. Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre la terza edizione del festival Spina Corona porterà la buona musica lungo alcune passeggiate del centro storico. Ideata dal pianista Michele Campanella, la rassegna propone un variegato programma che spazia lungo tre secoli di repertorio classico, toccando anche la musica jazz e il pop. Io vorrei che il mio festival fosse aperto a tutti e aperto a tutti i tipi di musica, tant'è vero che ho chiamato musica nuda e ho chiamato girotto, sono due persone, sono tre persone che non si occupano normalmente di musica classica. Incursione nel pop e incursione nel jazz, certo, va benissimo perché è la qualità che conta, non è il tipo di musica. Presentato questa mattina al Maschio Angioino, il festival raggiungerà luoghi d'arte poco conosciuti dai turisti e dai napoletani, come la chiesa di Santa Maria di Monte Verginella o la cappella del Real Manso in via Nilo. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e dureranno fra i 30 e i 45 minuti. Gli orari d'inizio sono sincronizzati per consentire di ascoltare più concerti in una sola passeggiata. Noi vogliamo andare verso il pubblico, non chiamiamo il pubblico ma vogliamo noi andare nei luoghi che o sono frequentati normalmente per visite turistiche ma non per musica oppure sono luoghi che attiriamo la gente a conoscere perché ci sono delle situazioni, dei siti nei quali le persone probabilmente non sono mai state e con la curiosità di conoscere questi siti ignoti facciamo ascoltare anche la grande musica. Sono due gli obiettivi insieme, l'arte e la musica. C'è l'opportunità di essere interessanti, attraenti e di quella durata giusta, al massimo 45 minuti, che consenta anche al pubblico del giorno d'oggi, abituato a consumare molto velocemente tutte le sue ritualità, un approccio che naturalmente noi ci auguriamo possa essere quello di una fascinazione che poi significherà essere presenti non solo a tutti i nostri concerti ma anche avere voglia di sperimentarne altri da altre parti. Il celebre direttore Gianluigi Gelmetti chiuderà il festival con una prova aperta di brani di Beethoven e Rossini guidando l'orchestra del Conservatorio di San Pietro a Maiella. Ed è un fatto che grazie all'intuito e alla voglia del maestro Campanella rompe tutti gli steccati, si allarga e vuole coinvolgere un pubblico di tutte le età, di tutte le generazioni, di tutti i censi, di ogni parte della società e della comunità. quindi veramente Spina Corona è un po' come festival oltre che come monumento l'emblema di questa Napoli che come sempre riesce a tenere il suo posto altissimo tra le città d'arte del mondo.